Sierò dato Gesù Cristo Oggi festeggiamo quello che è il martirio di San Giovanni Battista, il precursore del Messia, l'Elia che doveva venire, la grande voce che grida nel deserto, nel deserto del mondo, dove si fa fatica a udire la voce del Signore, finalmente si accende questa voce e indica che è arrivato la voce stessa di Dio. Lui è la voce, il suono della voce di Dio, è il Cristo, è la parola di Dio che si fa carne. Ebbene conosciamo la vicenda di Giovanni Battista che invita a prepararsi all'incontro con colui che può salvare l'anima, può introdursi nella vita eterna, che è Gesù il Cristo, colui che doveva venire, perché è l'agnello di Dio, cioè colui che paga per i nostri peccati solo se noi accettiamo di convertirci. Ecco perché predica e attua un battesimo di penitenza, che è lo stesso che poi Gesù continua a dare in vista di quel battesimo di sangue che gli dona per il mondo intero, il proprio sangue. Ebbene Giovanni Battista muore, incarserato e poi dopo decapitato, in un contesto che è a dir poco avvilente, la festa di un re locale, un piccolo re, che tiene per moglie la moglie del fratello, la cui figlia è quella che danza e che viene usata dalla madre per far tagliare la testa al Battista. E la madre muove la figlia contro la vita di Giovanni, il battezzatore, perché Giovanni il battezzatore, Giovanni il battista, ha osato dire che non è lecito a Erode tenere la moglie di suo fratello, cioè vivere nell'adulterio, spezzando quindi il vincolo sacro di un matrimonio. Quello che Giovanni il battista fa è una denuncia, non dell'adulterio solo in quanto tale, ma dell'adulterio proclamato, vissuto e fatto passare per normale dal potente di turno. Quando dunque chi governa impone con la propria vita e il proprio esempio quella che è la contraddizione della legge di Dio o la impone per legge per tutti quanti, in modo da giustificare se stesso, nella storia sono stati tantissimi e attualmente ancora di più, bene costui a una responsabilità più grave ed è per questo che il battista lo rimprovera pubblicamente. Non ti è lecito, non ti è lecito fare questo, perché tu sei chiamato a dare l'esempio, a governare secondo la legge di Dio. Sei chiamato a testimoniare valori alti in un modo più alto degli altri. Giovanni il battista viene decapitato per questo, ma c'è da chiedersi. Se qualcuno dicesse qualcosa del genere oggi, dove il matrimonio è stato bistrattato con la liceità del divorzio e poi dopo è stato stracciato nella sua stessa natura, perché un matrimonio anche civile ha una sua importanza, dove ci sono degli impegni per tutta la vita fra le persone, e gli impegni che sono morali sono anche civili, legali. Il matrimonio è ridotto a semplice accoppiamento. Chiunque può essere equiparato a un uomo sposato, a una donna sposata, anche solo se è accompagnato temporaneamente. E che dire del matrimonio contro natura? Cioè, snaturalizzato, deturpato, preso perverso, in qualche modo, perché non segue quella che è la legge di natura che Dio ha creato. Maschio e femmina li creò, i due saranno una carne sola e procureranno. E che dire? Che la procreazione è affidata a mezzi artificiali, indipendentemente dal matrimonio, o indipendentemente da quelli che sono gli impegni verso un'altra persona, figli in laboratorio, figli in proetta, figli in oltre in affitto. Il senso della paternità e della maternità che si perde, e sappiamo quanti danni questo procura, quello che è il bambino che cresce, deve trovare un senso di identità, è una radice che è la paternità, la maternità, e soprattutto l'essere amato dal padre e dalla madre. Già è così difficile, per il peccato che è nel mondo, e lo devasta da sempre, senza la forza di Dio, quindi del sacramento cristiano, del matrimonio. Ma così è ancora peggio. abbiamo creato una generazione di figli senza padri, senza madri, e quel che è peggio, con la volontà di rendere liquida il senso di identità, quando lo sforzo più grande dell'educazione è quello di crescere nella certezza dell'essere, di ciò che noi siamo, il senso di identità alle persone, tutto lo scopo dell'educazione è questa, quella umana, e poi poterla indirizzare a Dio, che è lo scopo sopranaturale per i credenti. Tutto questo ormai è stato spazzato via. E dunque, se Giovanni Battista ha dato la vita per difendere la liceità del matrimonio secondo Dio, che direbbe ai potenti di turno, che fanno delle perversioni, delle deviazioni e dell'immoralità una battaglia legale, una legge. Esiste un Giovanni Battista oggi sulla Terra? Ma è venuto Giovanni Battista, è venuto il Cristo che ha detto questo non è bene, seguite la via, io sono la via, mettete i piedi sui miei passi, su punti sicuri, perché la vostra vita qui sulla Terra passa, siete destinati a vivere nell'eternità, state camminando invece verso la morte, la morte eterna, la perdizione delle anime. Dobbiamo dire questo al mondo, dobbiamo dire che è in pericolo l'essenza stessa della natura umana sulla Terra e dunque quella che è la sua destinazione futura, quella vera, quella eterna. Noi abbiamo messo a rischio mortale tutte le ultime generazioni sulla Terra. Vivono contro Dio, senza Dio e che ne sarà di loro. Siamo ancora testimoni di valori nei quali noi crediamo che sono per il bene dell'umanità, sono i beni dei piccoli, questa generazione che deve essere educata a quella che è la verità, la sincerità, la purezza, l'aspirazione alle cose più alte, quelle dello Spirito e la realizzazione della loro santità, di ingresso nella loro vita eterna. Questa è la nostra vocazione e se anche ci deve costare la testa, saremmo con Giovanni Battista testimoni della verità che adesso viene nel mondo, che è Cristo, il nostro Signore. Dio vi benedica. Grazie a tutti.